Guidoni in chiama, il Palermo 2 risponde. Allo stadio Friuli, nell'andata degli ottavi di Coppa Italia, il Rosanero impattano 0-0 con Ludinese, dimostrando però il Pio e la determinazione giusta. Il Palermo è imbottito di seconde linee, con solo tre titolari a supporto, Zaccardo in difesa, Simplice a centrocampo e Cavani in attacco. Partono subito forte i Rosanero, che al decimo sfiorano il vantaggio con Cavani. Lo stesso Ruguayano, qualche minuto dopo, salva alla porta degli Ardi, respingendo sulla linea un colpo di testa di Zapotocni. L'azione più pericolosa, però, è ancora di marca Rosanero. Al 35esimo, Jankovic raccoglie un lancio in verticale di Simplice, si coordina molto bene e con un potente destro di prima intenzione centra in pieno la traversa. Con il suo movimento e i suoi inserimenti, il serbo continua a creare imbarazzo e apprezzione alla retroguardia odinese per tutto il resto dell'incontro. Una freccia in più, quindi, per l'arco di Guidolini. Nel secondo tempo le squadre si allungano, ma entrambe non trovano il guizzo giusto. In verità, lo spunto, il Palermo lo aveva trovato al 19esimo, ma Bresciano, opaco ed avulso per tutta la gara, spreca da posizione favorevole. Per Guidolin si tratta del primo pareggio della sua terza gestione dopo la sconfitta di Catania e le vittorie con Fiorentina ed Atalanta. Per l'Udinese e Palermo, appuntamento al 16 gennaio per la gara di ritorno.